Siamo nel bel mezzo della sosta per le nazionali di marzo, l'ultima di questa stagione, in attesa allora che ritorni il calcio dei club e che l'Inter giochi quest'ultimo rush finale, nel quale ci auguriamo che possa arrivare il grande obiettivo che fin da inizio stagione tutti noi sogniamo. Siamo qui con un nuovo episodio di Interisti on the road, una rubrica di Passione Inter che vi riproponiamo a cadenza più o meno regolare sia sul nostro sito sia sui nostri canali audio-video in cui facciamo il punto su quella che è la stagione dei giocatori che l'Inter ha mandato in prestito in giro per l'Italia e per il mondo, tra chi sta facendo meglio, chi sta facendo peggio, in particolare i giovani che l'Inter ha mandato in prestito, ma non solo. Facciamo quindi quest'ultimo recap prima di quello finale di fine stagione in questo episodio e come sempre prima di partire vi chiedo di cliccare sul tasto mi piace se ancora non l'avete fatto e sul tasto iscriviti qui sotto così non vi perdete alcun contenuto dei nostri canali. Cominciamo allora con questa carrellata e partiamo da un giocatore che sta facendo bene e mi riferisco a Valentin Carboni del Monza che quest'anno ha già messo insieme 22 presenze in Serie A più una in Coppa Italia. Non tutte da titolare ovviamente però ha la fiducia di Raffaele Palladino, il tecnico del Monza che più di una volta ne ha parlato molto molto bene e a fare ecco a Palladino c'è stato tra gli altri anche lo stesso Adriano Galliani. Alcune presenze da titolare, altre ha inserito a gare in corso però fino ad ora due gol e quattro assist in poco più di 800 minuti in campo. Non è ancora chiaro cosa ne sarà di lui nella prossima stagione diciamo che l'Inter deve valutare sulla base di tre possibili soluzioni o un nuovo prestito magari proprio al Monza per dare continuità e per lasciarlo in una realtà in cui sta facendo bene. Una cessione a titolo definitivo nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta molto pesante un po' in stile casa dei a livello di operazione oppure perché no anche un'operazione alla Fabian quindi una cessione sì a titolo definitivo però con una clausola di riacquisto dopo uno o due anni ad un prezzo maggiorato in modo tale da poter in qualche modo mantenere comunque il controllo del giocatore. Passiamo da un argentino all'altro ma passiamo da uno dei migliori a uno purtroppo dei peggiori e qui parliamo ovviamente di Joaquin Correa che al Marsiglia dire che non sta facendo bene è un eufemismo. È il secondo giocatore più pagato della Rosa fino ad ora ha messo insieme una quindicina di presenze stagionali di cui solamente otto da titolare con la bellezza di zero gol e zero assist all'attivo. Al momento la stagione è questa l'Inter come sappiamo ha accordato con il Marsiglia un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo solo nel caso in cui il Marsiglia dovesse qualificarsi direttamente alla prossima Champions League. Ecco al momento il Marsiglia ha otto giornate dalla fine e dista sette punti dal primo posto disponibile per la Champions. Non è ancora finita è comunque molto difficile poi non dimentichiamo che il Marsiglia è ancora in gioco anche in Europa League quindi magari può risollevarsi anche da lì. Però sicuramente Correa sta facendo molto male e se dovesse ritornare all'Inter come ad oggi sembra probabile bisognerà capire cosa fare perché ha un costo a bilancio non indifferente. Ma sarà anche difficile da piazzare. Procediamo con Gaetano Oristanio che è uno secondo me dei giovani meno chiacchierati ma tutto sommato più interessanti per quello che è stato il suo percorso fino a qui e anche per quello che ha fatto vedere al Cagliari in questo momento. Purtroppo nel mese di gennaio si è fratturato il metatarso e è rientrato solamente a febbraio contro il Napoli. Fino ad ora però ha fatto ha messo insieme 21 presenze totali di cui 9 da titolare segnando due gol e realizzando anche un assist. Secondo me delle qualità non banali non indifferenti probabilmente per incidere di più deve cercare di entrare maggiormente a tabellino o con i gol o con gli assist però io lo torrei d'occhio perché secondo me è un giocatore interessante. se riesce a trovare continuità appunto sia dal punto di vista fisico che soprattutto dal punto di vista delle scelte dell'allenatore potrebbe fare bene. Io gli vedo anche una personalità non banale sinceramente in Oristanio e non so se sarà mai da Inter però potrebbe diventare uno di quei giovani che magari ha un certo tipo di mercato in una media serie A e dal quale quindi ricavare qualcosina per fare plus valenza. Un nome che invece secondo me in casa Inter continua ad essere molto caldo a livello proprio di un futuro in nero azzurro è il nome di Filip Stankovic portiere attualmente in prestito alla Sampdoria che ha cominciato la stagione in maniera un po' complicata con un impatto abbastanza traumatico diciamo così. In realtà poi però Stankovic ha confermato quello che in tutte le squadre in cui ha militato fin dalla primavera dell'Inter ha sempre dimostrato di poter essere cioè una colonna della squadra un giocatore a cui potersi affidare e anche nella Samp anche se all'inizio si temeva potesse perdere il posto da titolare in realtà ha cominciato a mettere insieme tante prestazioni positive e nell'ultima gara contro il Bari ha parato un rigore. E' uno dei giocatori che quando in partita tende ad essere uno dei più decisivi nella Sampdoria. Quando si parla di portieri purtroppo credo che dipenda molto anche dagli incastri temporali di quello che è il portiere titolare in questo caso dell'Inter e di quando il giovane di riferimento come Stankovic può essere pronto a fare il grande passo. Se si incastrano il momento in cui il titolare dell'Inter magari cede il passo perché può essere in la colletta come Sommer o perché può essere ceduto come Onana e dall'altra parte il giovane sembra pronto allora potrebbe esserci il grande salto. Viceversa è un po' più complicato però sono abbastanza convinto che Stankovic i numeri per poter ambire a quel ruolo lì li abbia. Chiaramente deve trovare continuità e deve confermarsi però sta facendo bene. Rimaniamo in casa Samp perché c'è anche Sebastiano Esposito alla Samp. Un altro di quei giocatori che avrebbe secondo me le qualità tecniche per poter ambire a alti livelli ma che fino ad oggi fino all'arrivo alla Samp ha sempre avuto delle esperienze un po' particolari che spesso sono diciamo si sono un po' ecclissate non necessariamente per ragioni tecniche. Va detto che però nonostante una serie di infortuni che da gennaio circa continuano un po' a perseguitarlo fino ad ora ha messo insieme 5 gol 5 assist e forse solo a Bari ho avuto la percezione che avesse trovato un ambiente favorevole tanto quanto l'ho trovato a Genova appunto con la maglia della Samp. Anche qui non so se ci sarà mai un futuro nell'Inter per Sebastiano Esposito però per il tipo di carriera che ha fatto e per il tipo di potenzialità può essere un altro col quale magari ricavare qualcosa a livello di cessione. Al momento non sembra essere all'orizzonte la possibilità che l'obbligo di riscatto a circa 5 milioni di euro per la Samp debba scattare è determinato da un certo numero di golo di presenza che però non sembrano essere diciamo all'orizzonte. Quindi in estate probabilmente tornerà all'Inter e allora si capirà che cosa fare. Da un esposito all'altro Francesco Pio è un altro giocatore, Francesco Pio è più giovane classe 2005 quindi veramente molto molto giovane però anche lui ha già fatto intravedere dei numeri non indifferenti. Più di una volta in passato io l'ho paragonato dalle movenze un po' a Geco poi chiaramente è molto presto si parla di un ragazzo molto giovane però mi ha ricordato quel tipo di giocatore lì. In questo momento al primo anno tra i professionisti pochi gol solo due con la maglia dello Spezia però ha già messo insieme 30 presenze in campionato di cui 14 da titolare. E secondo me a quell'età qui certo contano i numeri naturalmente i gol e gli assist però avere anche fiducia dell'allenatore, continuare a giocare, trovare continuità è un'altra cosa molto importante. Purtroppo lo Spezia non sta facendo una buona stagione, attualmente è molto vicino alla retrocessione in Serie C e probabilmente posso immaginare che da esposito ci si aspettasse qualcosina di più. Però ribadisco ancora è veramente molto giovane, secondo me magari trovando l'anno prossimo un ambiente un po' diverso potrebbe fare ancora meglio. Un altro giocatore che invece un po' come Correa non avrà più futuro nell'Inter e per quanto probabilmente non verrà confermato dal Barmouth che è la squadra attualmente in cui si trova attualmente, probabilmente comunque tornerà a Milano ma lascerà nuovamente l'Inter. Sto parlando chiaramente di Yonut Radu, portiere che purtroppo ricordiamo ancora per quel grave errore in quel famoso Bologna-Inter, quest'anno cinque presenze complessive, l'ultima pensate ad inizio novembre, quindi veramente tanto tanto tempo fa. C'è un prestito con diritto di riscatto, ha fissato 8 milioni di euro in favore del club inglese ma non credo che ci siano grandi possibilità che questo riscatto venga esercitato. Il contratto di Radu con l'Inter scade nel 2025, posso immaginare che anche tornando a Milano si procederà comunque ad un addio in qualche modo. Andiamo verso la fine, andiamo da Lucien Agumet, ceduto al Siviglia in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro nel mese di gennaio. E' arrivata questa operazione, si pensava che potesse trovare un ambiente magari interessante per lui. In realtà purtroppo fino ad ora tre presenze totali in Liga, di cui una sola da titolare e un'altra presenza poi in Coppa del Re. Al momento è difficile capire cosa ne sarà di lui, per quello che si è visto finora difficilmente verrà confermato al Siviglia. Io continuo a pensare che Agumet nell'Inter sia veramente un mistero, perché quando l'Inter lo ha prelevato dalla Francia, mi ricordo che se ne parlava benissimo e sembrava che l'Inter avesse preso veramente, non dico un potenziale fenomeno, però è un giocatore su cui c'erano gli occhi anche di tante big europee e il motivo per cui io parlo di mistero è che non ho mai avuto l'impressione, al di là dei prestiti, non ho mai avuto l'impressione che all'Inter volessero puntarci davvero. E' come se l'avessero comprato con tutta questa sensazione di colpo potenzialmente importante, ma poi fin dall'inizio non si abbia mai avuto fiducia in lui e l'Inter non si è mai stata convinta fino in fondo. Ha fatto anche delle fasi, se vi ricordate, rimanendo in prima squadra, ma è chiaro che l'Inter è una squadra con grandi ambizioni e nel suo ruolo in particolare con grandi giocatori, però veramente non ho mai avuto quell'impressione che venisse considerato come un giocatore potenzialmente promettente. E allora temo che anche per Agumet di grande futuro all'Inter non ce ne sia, vedremo come finirà questa stagione, ma in ogni caso non ce lo vedo onestamente nell'Inter. Zinhova Neusden, uno degli ultimi, un altro che ha inizio carriera prima dei numerosi infortuni che purtroppo lo hanno tartassato negli anni, sembrava avere delle potenzialità pesanti. In Belgio ne parlavano, non dico come nuovo Vincent Company, anche per caratteristiche banalmente, però dal punto di vista quantomeno del simbolo, diciamo così, qualcuno pensava che potesse veramente fare quel tipo di percorso, quantomeno anche in ottica nazionale. Ecco, va detto che per fortuna quest'anno sta disputando un'ottima stagione, è praticamente titolare fisso e capitano dello standard Liegi e è veramente apprezzato da tutti all'interno del club belga. C'è un diritto di riscatto a favore dello standard da circa 7 milioni di euro, non è escluso a questo punto, vista la stagione che sta disputando, che questo riscatto possa avvenire. Ho un pizzico di rammarico perché, alla luce di tutto quello che vi dicevo prima, qualche anno fa secondo me poteva sembrare un possibile centrale del futuro per l'Inter, Van Oysden, poi purtroppo, come dicevamo, ha avuto diversi problemi, si è rotto il crociato più di una volta, poi anche il menisco. Non credo, anche qui, che ci siano grandi prospettive per un rientro a Milano, però, come vi dicevo, non è cattiveria, però quando si parla di questo tipo di giocatori le soluzioni sono due. O lo cresci finalizzando poi un arrivo in prima squadra, oppure ragioni sulla cessione. Quando la prima opzione diventa non percorribile per una serie di motivi, si valuta anche la seconda e anche questo, credo purtroppo, che sia il caso. Molto rapidi con gli ultimissimi nomi. Un altro dei più chiacchierati è, secondo quello che leggevo anche sui social, ma anche nei commenti sotto i nostri contenuti, Martín Satriano, che al Brest sta trovando un po' di continuità, finalmente 28 presenze stagionali, pochissimi gol purtroppo, solamente 4 e considerato che Satriano è di fatto una prima punta, è veramente molto poco. Vedremo come andrà, immagino che l'Inter cercherà eventualmente un altro prestito, però se vuol fare un salto di qualità, oltre a giocare in questo caso deve cercare, come dicevamo di Francesco Pio Esposito, che però è più giovane, deve cercare di incrementare il numero dei gol, inevitabilmente. Altro giocatore che sta trovando un bel po' di spazio è Mattia Zanotti, titolare fisso al Sangallo in Svizzera, e sta giocando veramente un'ottima stagione, un po' meno entusiasmo purtroppo va detto su Alessandro Fontana Rosa, che non è mai riuscito, diciamo, a imporsi da titolare con continuità, in questo caso al Cosenza in Serie B. Mentre invece, chiudiamo quindi con una nota positiva con l'ultimo nome, a gennaio dalla Serie B spagnola è arrivato e tornato nella Serie B italiana Eddie Salsedo, altro nome che in realtà circola da tanti anni, sebbene sia un classe 2001, Maglia dell'Ecco per Salsedo, nove presenze fino ad ora da quando ha avuto modo di tornare, ne ha giocate se non erro, nove su undici, quindi anche qui, per quanto riguarda i gol e i numeri, lo vedremo, però quantomeno sto trovando un po' di continuità, anche se, anche per Salsedo, credo che un futuro nell'Inter sia ormai da escludere. Questo allora era il maxi riassunto della stagione fino a qui, o perlomeno delle ultime settimane di stagione dei giocatori che l'Inter ha mandato in prestito in giro per il mondo, a fine anno, alla fine di questa lunga stagione, immagino faremo un altro recap molto più completo e potremo finalmente tirare le somme definitive della stagione di questi giocatori. Io per ora vi saluto qui, ma vi chiedo di lasciarmi un commento dicendomi qual è il giocatore fra questi che state tenendo d'occhio con maggiore interesse e quale, secondo voi, può avere le carte in regola veramente per un futuro nell'Inter. Credo che Valentin Carboni sia uno dei più gettonati, ma penso che usciranno anche altri spunti, altre idee, quindi fatemi sapere assolutamente nei commenti. Se poi volete continuare a parlare di questo e di tanti altri temi di Casa Inter insieme a noi, vi ricordo il club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se volete unirvi alla nostra community e anche dare un sostegno molto importante al nostro progetto. Infine, come sempre, per chi mi ascolta in podcast, trova un altro contenuto nella descrizione dell'episodio, mentre se mi stai seguendo su YouTube è sufficiente che clicchi qui.